Quando salgo a cavallo è come se stessi in un altro pianeta. Si è fatto come una codoletta. È un qualcosa che mi emoziona veramente, come se dimenticassi un po' tutti i problemi, tutte le situazioni che ho. Ok, una bella carezza, avanti e poi dietro. Il cavallo si accorge delle tue emozioni. La sfida più grande è stata quella di diventare grande, perché comunque non è facile. Io da piccola ho perso mia mamma quando avevo 12 anni. Questo è mio fratello che sta in braccio a mia mamma. Lei è molto sorridente, molto contenta. Ha una bella espressione, serena, felice. Per me, mia mamma non è una memoria, perché io non c'è un giorno che non la penso. È come se lei fosse sempre con me. Il mio laboratorio lo sento molto mio, perché alla fine è il luogo in cui passo la maggior parte del tempo. Quindi alla fine diventa come una seconda casa, per cui è proprio qualcosa di mio. La mia mamma anche lei era sarta. Poi chissà, forse questa passione del cucito chissà che non me l'ha trasmessa anche lei, insomma. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.